Ciao a tutti, sono Wiganet. Oggi vi parlo di un nuovo prodotto, un nuovo bundle DJI che sta per fare un salto importante nel mondo dei droni DJI per il volo in prima persona a dei prezzi accessibili. I DJI Google N3 che usciranno tra qualche giorno nella versione combo con DJI Neo e Motion Controller ad un prezzo davvero molto interessante. DJI è pronta a lanciare questo visore pensato per l'FPV e l'esperienza di volo immersiva con un prezzo decisamente competitivo proprio al lancio e un design incentrato sul comfort. Potrebbe essere l'accessorio che molti piloti di droni aspettavano per fare anche questo cambiamento. Se siete appassionati di tecnologia, di droni o semplicemente curiosi di sapere cosa renderà questa novità davvero così interessante, beh, restate con me fino alla fine. Guardate, io ho un sacco di cose qua sopra, ovviamente, che vi voglio far vedere e vi spiegherò in questo mio video. Ma prima di iniziare vi invito a lasciarmi un like, iscrivervi al canale, condividere questo mio video. Mi aiuterete così a portare contenuti sempre più interessanti ovviamente qua nel canale. Ma ora se entrano in vivo, beh, qui sulla mia scrivania, come vi vedete? Ho ovviamente il motion controller, che è quello che si usa con il mio, e ho i visori Google 2, eccoli qui, che permettono ovviamente di volare con lui. Ho anche i vecchi Google, eccoli qui, i primi visori di Google per volare in FPV e anche con il DJI FPV. Se siete interessati li venderò insieme, ho il radiocomando, ho di fatto due motion controller nelle due versioni, ho anche il DJI FPV, proprio il drone, per cui ho intenzione a questo punto di venderli, per cui se qualcuno di voi fosse interessato, beh, contattatemi direttamente alla mail che trovate qua sotto, diciamo che più che vendere vorrei svendere questi prodotti che di fatto adesso ho fatto l'upgrade e non uso più. Dunque, se vi va, guardate, eccolo, uno, due, anzi ho questo più il modello nuovo, DJI Avatar con tre batterie, radiocomando e anche DJI FPV con le tre batterie. Dunque, credo, con questo guidate entrambi, con questo uguale. Contattatemi, ovviamente, perché sicuramente la cosa è molto interessante se volete iniziare a volare con questi prodotti. Questo nuovo visore, beh, si presenta con un design attento al comfort, è perfetto per lunghe sessioni di volo. Grazie appunto alle ultime immagini trapelate in rete, sappiamo che DJI è appuntato su un'imbottitura in schiuma di alta qualità che segue ovviamente i contorni del viso, andando a distribuire uniformemente il peso e migliorando l'ergonomia. Diciamo che è più simile a questa che a questa come dimensione, è abbastanza ingombrante a vedere dalle immagini, però è fondamentale per gli utenti che desiderano comunque un'esperienza FPV prolungata senza, appunto, sacrificare la comodità, visto che questo è un po' più peso rispetto a questo. Inoltre, i Googles N3 sono progettati per essere compatibili con occhiali da vista. Un dettaglio non da poco, mi viene in mente i miei 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 Ulivelli, che si domandava questa cosa, e questo ovviamente per tutti quelli hanno necessità di portare delle lenti correttive. Dunque, dovrebbe essere interessante anche per questo. Io mi sono sentito a un vittorio di Personal Drones e sicuramente mi prenderò a questo visore per testare tutto, ovviamente con il DJI Neo. Dunque, seguitemi e se siete interessati, beh, vi lascio il link sotto di Personal Drones del sito, andate a vedere appunto cosa ha Vittorio e tutti i prodotti DJI che vende. Parliamo delle specifiche tecniche di questo nuovo visore. Il DJI Googles 3 N3 hanno un display singolo da 3,5 pollici con una risoluzione 1080p e un campo visivo di 54 gradi. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 60 Hz, il che garantisce immagini fluide e dettagliate, minimizzando ovviamente l'effetto dizziness, ovvero il senso di disorientamento durante l'uso. Spero di averlo detto bene perché è una parola un po' particolare e basta sbagliare una parola, t'attacca a tutti. Ma non è tutto. Grazie alla trasmissione video avanzata a V-Sync 4, questi occhiali supportano un bitrate massimo di 60 bps con avatar 2 e 50 mbps con lui. Il che significa che sono nitidi e la valenza è ridottissima tra i 31 e i 58 ms. Un modello ovviamente davvero interessante e un punto decisamente a favore per chi vuole un'esperienza di volo in tempo reale senza interruzione o ritardi e ha una qualità davvero importante. Ma la sorpresa sta per arrivare, ora ve la racconto. Un'altra caratteristica però interessante è la funzione AR Cursor che permette di usare DJI RC Motion 3, ovvero questo, come un cursone in realtà aumentata prima del decollo o in fase di frenata del drone. Questo semplifica l'interazione con il visore rendendo l'esperienza di volo intuitiva e senza necessità proprio di andarlo a togliere le mani dal controller e facciamo tutto con lui addosso. La condivisione in tempo reale del feed video è un altro punto forte perché collegando il DJI Google N3 al proprio smartphone si può visualizzare un secondo flusso live attraverso proprio l'app DJI Fly, utile magari per insegnare o semplicemente per condividere l'esperienza che state facendo con il vostro ruolo con qualcun altro, magari si mette una drone masche e lo vive anche lui. Vi ricordo che ci vuole comunque un osservatore che guarda tutto dal vivo. Per gli amanti dei video panoramici i Google N3 supportano la riproduzione di filmati panoramici in modalità 4K offrendo un'esperienza visiva davvero coinvolgente. Basta caricare i video su una scheda Miro SD e se pronti per una sessione cinematografica unica, insomma come succede con loro. Eccoli qua, vedete? Un'altra caratteristica interessante che renderà questi Google particolarmente adatti a sessioni di volo prolungate è anche l'autonomia della batteria con una carica completa, i DJI Google N3 possono durare fino a 2,7 ore di funzionamento. Ciò significa che con una singola sessione di ricarica degli occhiali si possono coprire fino a 13 batterie del DJI Nio senza nessun tipo di problema. Questo è un altro aspetto davvero molto interessante. Ma guardiamo la strategia di mercato e il prezzo. E' qui che arriva il dunque. I DJI Google N3 sono posizionati come un'opzione FPV economica con un prezzo di lancio pensato di 269 euro. Tuttavia DJI ha deciso di non renderli disponibili singolarmente per il momento, si sembra, all'uscita del 6 novembre perché è il 6 novembre il giorno d'uscita. Ma solo una versione combo a 529 euro includendo anche, ovviamente, il DJI Nio e il motion controller. Questo bundle rende i Google N3 un'opzione molto competitiva per chi vuole entrare nel mondo FPV senza dover spendere cifre esorbitanti. Con 500 euro potete avere il drone, ovviamente, il motion controller e il visore. DJI sta chiaramente puntando ad un mercato di appassionati e neofiti offrendo un prodotto accessibile ma senza compromessi su qualità e funzionalità. E con il crescente interesse per i voli FPV è facile immaginare come questa strategia possa, diciamo, attirare un pubblico ampio inclusi magari i piloti più esperti alla ricerca di un'esperienza di volo più confortevole e anche versatile. Vi ricordo che con questi nuovi occhiali si può eventualmente anche volare con una vata 2 e di conseguenza magari uno quando ha preso la confidenza si può comprare anche il solo drone. E dunque, in conclusione, questi DJI Google N3 si prospettano come un visore FPV che unisce comfort e funzionalità avanzate e un prezzo davvero interessante. Diciamo, la metà di quelli che costano l'oro. Grazie alle caratteristiche ergonomiche, alla qualità del video e alle funzionalità aggiuntive come il controllo AR e la condivisione del feed in tempo reale, DJI sicuramente sta lanciando un prodotto che farà sicuramente molto interesse. Io vi dico di restare sintonizzati per ulteriori aggiornamenti, soprattutto in vista del lancio ufficiale previsto per il 6 di novembre. Questa dovrebbe essere la data ufficiale d'uscita. E che dirvi? Qualcuno che ha già comprato il DJI Neo, ovviamente ha già lui, dirà ma io che ce l'ho già, ma per quello che sappiamo sarà solo all'uscita che arriverà solo la confezione, la scatola che avete visto in copertina con il motion controller, il visore e il DJI Neo, ma successivamente DJI metterà anche in vendita il singolo visore per chi ha già questi prodotti e vorrà, con 269 euro, entrare proprio nel mondo FPV direttamente con lui. Poi, per carità, uno può prendersi anche il radiocomando, che è la versione 2 di questo, questo vi ricordo è quello che io voglio vendere con Avatar, e può iniziare anche a fare delle prove, a volare in aro, giusto per imparare con il piccolo, ma magari farà un upgrade e comprarsi solo Avatar 2, e beh, poi il resto lo fa la storia. Beh, che dire, seguite il canale, beh, come vedete il big è cerca di stupirvi, ho la scrivania plena di roba che mi fa pazzi. Ciao, un abbraccio dalla Toscana è tutto, ci si vede alla prossima. Ah, una osina, ho delle notizie interessantissime sui Mini 5 Pro, date, aggiornamenti, insomma, cosettine succulente che se mi seguite prossimamente arrivano qua nel canale, anzi ora ve le racconto appena ho girato questo video e ve le faccio vedere fra qualche giorno. Ciao! Ciao!